Eppur si muove, oggi è avvenuta la seconda stabilizzazione con sentenza del Tribunale di Crotone di una precaria che si è vista riconoscere e immessa nei ruoli dal 1 settembre 2005 con conseguente riconoscimento del periodo di servizio non prestato, riconoscimento della progressione di carriera e condanna del MIUR alla sua convenza spese. Questa è la seconda sendenza dopo quella del Tribunale di Napoli che comunque fa ben sperare. Certamente il risarcimento del danno non è una via praticabile perché in realtà non pon in essere quelle misure energiche e dissuasive pur richiamate esplicitamente dalla Corte di Giustizia che devono essere poste dallo Stato italiano per evitare l'abuso della reiterazione dei contratti a termine. Certamente non saranno tre mensilità a essere misure energiche e dissuasive per evitare che lo Stato possa abusare dei contratti a termine. Altra questione viene dal Tribunale di Foggia nell'audienza di oggi dove i giudici riconosceranno il risarcimento del danno a coloro che nel frattempo sono passati nei ruoli e il risarcimento del danno che rinverrà da tutti i periodi pregressi di servizio pre ruolo. Quindi il Tribunale di Foggia orientato nel riconoscere il risarcimento del danno a coloro che sono entrati nei ruoli e forse, ovviamente su questo non si sono ancora espressi, rimettere la questione alla Corte Costituzionale. Quali sono i tempi, Avvocato? Ricordiamo che la Corte Costituzionale sulla questione interverrà il 23 giugno 2015, noi ci costituiremo come federazione, personalmente e con altri colleghi difenderemo comunque i precari di la mezzia terme, ma questa questione, ribadiamo, non chiarirà il profilo della ricostruzione normativa in termini di precariato. D'altronde lo dice la stessa Corte Costituzionale nell'ordinanza 206, nell'ultima parte della stessa, lì dove dice che praticamente non essendo state sollevate questioni di legittimità costituzionale sull'impianto normativo del precariato, la Corte non può rispondere in tal senso. Per cui le norme sospettate di legittimità riguardano esclusivamente, come già detto, l'articolo 4 della legge 12499 che riguarda solo un passaggio, ovvero può lo Stato reiterare i contratti a termine senza prevedere procedure concorsuali, risponderà solo a questo. Quindi non verrà chiarito il profilo di ricostruzione normativa a tutela dei precari, su cui oggi in realtà c'è tutto da chiarire e su cui certamente né il risarcimento del danno né la Corte Costituzionale, oggi almeno per quello che sarà l'udienza del 23 giugno, potrà rispondere in materia.